Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Siamo alle partite decisive di questa mitica Fide World Cup e qui si gioca per entrare in semifinale, nei primi quattro posti, importantissimi per guadagnare non solo il vil denaro ma soprattutto per quanto mi riguarda capire chi guadagnerà, chi si prenderà i tre posti al prossimo torneo dei candidati. Stiamo per guadagnare insieme la partita decisiva tra Abasov che è un grande maestro a zero di 28 anni e il giocatore che ha eliminato in maniera secca 2 a 0 Salem che sappiamo aveva interrotto il cammino del nostro grande vocaturo e di nero Abasov che giocherà di bianco incontra il più esperto dei quattro giocatori indiani, il forte Vidit. Pensate che Abasov che ha circa 80 punti elo in meno gli giocherà per vincere il sistema di Londra ma funziona a questi livelli? Sembra essere comunque ritornato di moda. Lo vedremo insieme ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare il presidente, nuovo abbonato alle mie video lezioni che ormai lo sapete, le trovate qui sul canale a soli 2 euro e 99 al mese e poi salutare e ringraziare di cuore per tre apprezzatissimi super tanks gli amici e il pampa Daniele e Fabrizio. E adesso like al video e partiamo subito perché Abasov di bianco apre la partita con d4. Vidit risponde con cavallo in f6, cavallo in f3 e la spinta d5, alfiere in f4. Questo è proprio il buon vecchio sistema di Londra senza sviluppi moderni, senza artifici particolari. E allora Vidit come piace a me gioca c5 che mi sembra la linea più sfidante per questo sistema, naturalmente il pedone viene difeso con e3, arriva cavallo in c6, attenzione, attenzione perché si sta mettendo nuova pressione sul centro, sta per arrivare la forte donna in b6 che va ad impattare il pedoncino lasciato in difeso dall'alfiere che ha cambiato lato della scacchiera. Ora pensate, la mossa più giocata del bianco è c3 ma è un'idea vecchia, tant'è che il bianco dopo c3, donna b6, ha uno score del 40%, inaccettabile per il bianco. E allora lo sviluppo più moderno è cavallo in b che va in d2. L'indiano cambia idea, non gioca donna in b6, gioca e6. Come mai? Ritorniamo indietro un attimino. Donna in b6 rimane tra le migliori, se non forse addirittura la migliore, va ad impattare il pedone ed è il terzo attacco sul centro difeso soltanto due volte. Come mai allora questo cavallo in b che va in d2 va un po' contro questo sviluppo della donna? Perché il bianco perdendo un pedone, questo in b2, gli fa perdere tempo. Adesso il nero può o catturare in c5 oppure la linea più sfidante è catturare il pedone in b2. Torre in b1 attacca la donna, donna in c3 sembra essere migliore di donna in a3, alfiere in b5, inchioda il cavallo, guardate il tempo che si perde. Arrocco corto per il bianco con parità, ma se guardate bene il bianco ha un grandissimo vantaggio di sviluppo, più che altro c'è il re ancora al centro. Il nero è in parità, ma deve conoscere bene questa posizione, infatti vi lascio una linea in descrizione sotto al video. Se adesso il nero non sviluppa correttamente alfiere in e7 e va a pensare giustamente di sviluppare catturando, si trova in grandissime difficoltà. Quindi linea interessantissima. Ritorniamo a noi, allora, quindi io a tutti quelli che giocano il sistema di Londra consiglio cavallo in b che va in d2, arriva e6, c3 adesso, e adesso donna in b6 non serve più a niente, perché senza il cavallo in b1 che bloccava la torre, il bianco risponde semplicemente con torre in b1. E allora vidi giustamente gioca alfiere in e7, h3, alfiere in d6, interessantissima di nuovo la risposta della 0. d per c5, ora che succede? Si potrebbe pensare di cambiare subito gli alfieri per sciopargli la struttura pedonale. Ma non lo farà giustamente vidi, perché dopo alfiere per alfiere e il pedone che ricattura con b4, il bianco si tiene il pedone che ha catturato. E allora, con pazienza, l'indiano cattura in c5, alfiere in d3, perché qui bisogna arroccare, alfiere in d6 di nuovo, e ora qui non c'è scampo, bisogna andare a cambiare questi alfieri camposcuro, alfiere per alfiere, la donna ricattura, e ora qui ci sono varie idee, donna in c2 è una di queste. Arrocco corto è la mossa più giocata dal nero, probabilmente è un'ottima mossa, arriva la novità di vidi, cavallo in e5, che rende questa partita originale. Attacca l'alfiere, ma naturalmente Abbasov l'alfiere non se lo fa togliere, cavallo per cavallo, la donna ricattura, arrocco corto per il bianco. Forse questa è l'ultima opportunità per il nero di arroccare corto, che rimane una buonissima idea, arriva alfiere in d7, e allora la spinta centrale è 4. D per e4, il cavallo ricattura, e ora bisogna iniziare a stare un po' attenti. Cavallo in d5, centralizzazione della torre che attacca la donna a raggi x, fortunatamente per il nero non ci sono ancora scoperte vincenti. Arriva alfiere in c6, il bianco centralizza anche la seconda torre in d1, e adesso il nero non può più arroccare corto. Come mai? Perché se, naturalmente l'indiano non l'ha giocato a rocco corto, basta spostare il cavallo, donna sotto attacco dove va? Donna in c7 o donna in f6 sono le due case buone, ma qui si perde il pedone in h7 con scacco, re in h8, e guardate brutta questa torre in d4 che minaccia torre in h4, la partita per il nero a questo livello è già persa. E allora che cosa fa Vidit? Arrocca lungo. Mossa migliore, ma posizione estremamente rischiosa per il nero. Alfiere in f1, migliora la protezione dei suoi pedoni, ma più che altro lascia la colonna alla torre. Re in b8 è sempre una buona mossa. Adesso, proprio da manuale, la manovra b4 a4 mi sembra quella più precisa. Invece l'a0, secondo me, commette un errore. Donna in d2 non la capisco proprio, e noi siamo arrivati al nostro quizone. Cosa giochereste? Un quizone difensivo. Cosa giochereste in questa posizione al posto del nero? Mettete pure in pausa, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Cavallo in f6, che attacca per la terza volta il cavallo, e scopre l'attacco della torre sulla donna. Rimette il nero assolutamente in partita. Come mai? Qui il cambio donna per torre, che ne ho neanche segnato, perde la partita di botto, perché dopo che questo ricattura, qui non sono due torri per la donna. Perché il re si sposta, attacca la torre, e questa torre che fa? Deve tornare indietro. Lui la mette qui, ma qui si perde il cavallo. Scusate. Qui si è perso il cavallo. E quindi partita finita. E allora, dopo cavallo in f6, il bianco non perde se gioca cavallo in d6. Quindi il pezzo sotto attacco diventa scudo della donna. addirittura il nero adesso a questa donna sotto attacco. Cavallo in e4. Attenzione. Attenzione. Qui si minaccia di nuovo il cavallo. E allora bisognerà andare probabilmente donna per donna. Il nero la sposta. La sposta anche il bianco. Mi piace di più in c2 che in e3. con totale o quasi parità. E invece, dopo donna in d2, secondo me, vero e proprio errore, Vidit gioca donna in c7. Allora il bianco rimane con un certo vantaggio. Arriva cavallo in c5. H6. Guardate che lentezza, che difficoltà nel muovere i pedoni per l'attacco sul lato di re. E questi invece del bianco arrivano, queste spinte arrivano addirittura con tempo. c4, impatta il cavallo. Cavallo in e7. Donna sotto attacco. Si porta in c3. Attenzione anche. Non so se si catturerebbe, ma insomma, bisogna stare un po' attenti. Cavallo in f5. Arriva anche b4. Torre per torre. La torre ricattura. Torre in d8. Cosa vuol fare Vidit? Vuol eliminare più pezzi possibile per togliere forza all'attacco del bianco. Torre per torre. La donna ricattura. Arriva b5 con tempo. Alfiere in e8. E arriva anche a 4. Re in c8. Un'altra idea che non capisco bene. Cavallo in b3. Sicuramente ottima per far avanzare il candidato. Cioè, del 3 contro 2. Totalmente eccitato che Balbetto, quando c'è il 3 contro 2, sul lato di do. Del 3 contro 2. Qual è il candidato a diventare il pedone passato? È quello più esterno. E quindi il candidato deve avanzare. F6 arriva a 5. E qui si nota che il bianco arriverà per primo al punto di contatto. E questa è una delle cose essenziali da capire in questi attacchi su fronti contrapposti. E allora, come dicevo in altre partite, si fa brutta quando quello arriva per primo. Donna in d1, se non altro, inchioda l'alfiere sul re. Donna in b4, protegge il pedone per far avanzare l'altro. Forse è 5 l'idea migliore. B6 invece arriva. E qui allora a per b6, a per b6, c5. Si gioca da sola. Qui si cattura, qui bisogna aprire tutto. E allora, b per c5, la donna ricattura in c5 con scacco. Re in b8, donna in b6 con scacco. Il re si sposta in c8, donna che cattura in e6 con scacco. L'alfiere si interpone, la donna si sposta in c4 con scacco, re in d8. E allora, il pedone passato avanza. Arriva b6, donna in d6 torna indietro a controllare la casa di promozione. Donna in g8 con scacco, una mossa fortissima, perché non soltanto da scacco, ma va anche a controllare la casa di promozione. Re in e7, arriva b7. E mo' che si fa? Alfiere in e8. Questa è la grande idea difensiva di Vidit. è che chiude il controllo della donna su b8, ma questo pezzo, praticamente sta contro... Questo alfiere in questa posizione non si può più muovere, perché lui sta difendendo una casa che fa vincere la partita. E allora cosa si fa? Alfiere in b5, tra le varie idee, deviazione micidiale, perché se questo cattura, questo va a donna. E allora prova con gli scacchi Vidit, donna in d1 con scacco, re in h2, donna in d6 con scacco, g3, per il nero è finita, alfiere in f7, il pedone va a donna, Vidit si fa dare matto, perché aveva ancora 5 minuti per pensare. Alfiere per donna, donna supportata dall'alfiere in e8, scacco matto. E allora Abasov, con questo bel sistema di Londra, passa in semifinale, dove incontrerà Magnus Carse. Dell'altra semifinale ne parleremo domani, e per questo non vi metto il tabellone. Vidit in questa partita mi ha un po' deluso. però, però, quando un giocatore di questo livello non gioca bene, mi viene in mente, mi viene sempre in mente, che siano tutti stanchi, più o meno, da morire dopo un torneo difficilissimo e lunghissimo. Quindi anche la stanchezza mentale, secondo me, giocherà un grandissimo ruolo in questa fase finale, di questa Fide World Cup. Allora, spero che questa partita vi sia piaciuta. Ditemi se giocate il sistema di Londra, ditemi un po' che cosa ne pensate di questo sviluppo cavallo in B che va in D2 prima di giocare in C3. Ditemi anche se sviluppate subito il cavallo in F3 o come abbiamo visto andate a portare subito fuori dal fiere sviluppo moderno. Insomma, c'è tanto di cui parlare di questo sistema di Londra. A me, quando ero giovane, purtroppo, non mi piaceva per niente. Ma perché ero io che di scacchi ci capivo ancora meno di ora invece il sistema di Londra è un bel sistema e piacevole anche da imparare. Come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi però continueremo a seguire questo bel torneo. Ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.